secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie bastava dirlo prima che avrebbe avuto la sub il regalo infatti mi raccomando vaginomunite se avete la ciucia se avete la vagina ditelo in chat che magari qualcuno vi regala la sub qua siamo molto gentili con le vaginomunite ma non è anche quello il problema ho anche pensato perché puttana adesso si pensano che tipo che cazzo ne so che tipo è organizzata sta roba che sono tipo eccomi facciamo la gag ma non era così e quindi mi è venuto un sacco di ammazziamo michelle vi giuro che l'ammazziamo cioè magari possiamo anche perdere però vi giuro che michelle l'ammazziamo quindi squadra non erano il livello questo è flammare no? tu con chi hai giocato? con Aaron Lane con Mr. Marra il più scarso probabilmente dopo michelle ah davvero così tanto? ah quindi era il più bravo michelle? si ma michelle michelle era la più scarsa poi Mr. Marra poi poi tu credo no culo brando faceva per schifo di me culo brando guarda che sono competitiva mi sono accorta di tutto che ti credi culo brando era terribile eh vedi? io ero terribile ma si impegna oh ma raga ma potete fissare? dai a parte gli scherzi no se veramente vi fate sia la vpn sia l'incognito che cazzo cercate come creare bombe nucleari? cronologia po' grita come fingersi una web per fare soldi su twitch minchia sarebbero contentissimi i commenti su youtube se fosse vero dovremmo fare una volta che ti sgamo la cronologia filetica la cancelli sempre sembri minacciosa infatti li minaccio se non fanno la sub ma certo ma la storia della doccia è per fare i content raga che mi pare ma che schifo grazie di santi per il terzo mese allora adesso la prova delle nove grazie di santi per il terzo mese ma vuoi che io questo si può veramente dire che è un caso in cui l'allievo supera il maestro aspetta vi faccio vedere che sono anche una gamer girl se volete comunque cerchi di spicci bro allora comunque piccolo annuncio aspettate che mi devo aggiustare le tette perché una vagina munita potrà capire che ogni tanto ce la dobbiamo aggiustare comunque se hai visto il cazzo bro eh lo so ti mancava solo il pisello infatti vabbè ha fatto sta sta molto bene se lo mox è uguale a Erwin eh io l'ho fatto i simili hai visto perché ci ho pensato adesso che effettivamente quelli sono e inconsciamente li ho fatti la schiena la schiena non si è visto il culo vero fammi vedere come c'è la forma dell'occhio come c'è la forma dell'occhio esatto molto importante non spalancarli farli normali non scordo normale l'hai mai visto? l'hai mai visto? aspetta come si chiama? una serie di sfortunati eventi? quello con Jim Carrey? ce l'ho presente ma non l'ho visto che c'è una scena in cui li fa? eh classicone di Jim Carrey vabbè anche se non ho visto quel film l'ho fatto ogni a dieci e gli altri miliardi di film sui sta ferma sta ferma sta buona non spalancarli lasciali normali normali ok c'è un po' anche tu l'occhio incappucciato siamo nella merda che significa l'occhio incappucciato? siamo nella merda ragazzi cosa è l'occhio incappucciato? ma ci ha l'ho aperto Paolo noi fatto ecco ma ce l'ho fatta ce l'ho fatta ci siamo tutti perfetto perfetto per gli ultimi 30 secondi andiamo a vedere meglio di niente vediamo adesso la scelta quindi due mid laner due ad carry due support adesso servono due top player perché giungla io dubito mi stai stando vabbè mi stai fa cagare un cane brutto il cane brutto il cane di michelle Nala fa schifo Nala fa schifo Eren Supremacy mi raccomando la postura la postura dritta niente pose da anime non è che lo faccio a posto è che vabbè vado noi dovremmo scegliere anche il choker per lui sta benissimo anche il colore il suo pure il colore il suo raga ecco ho preso la felpa vado io le brucio ho preso la felpa vado io le brucio io non appena vado a Milano mi intrufolo in casa sua e le brucio tutte le felpe anche a costo di essere denunciata lo faccio veramente a parte ora arriva l'estate penso che si felpe non se ne metterà più in postura non da muratore per favore ah eh vabbè dai raga no però quello verde effettivamente è un po' troppo cioè nel senso se per lei era eccessivo questo qua non so che dire mi piacevano i cazzi giganti a quanto pare al aliceo e quelli 2D però è bello vabbè foto sta Ice Nuggets grazie per l'abbonamento se ti va a puntare se anche a te piace mi è uscita male mi è uscita male in mezzo a tutti i deficienti in mezzo un po' a quelli che sono un po' così non mi sta sul cazzo riconosco che sia un personaggio erogistico ma ci sta ma anche tanti altri ce ne sono sembra in quel caso di Odi in modo diverso non voluto l'autore concordo e molti amici caratterialmente mi paragonano ad Erin così so di essere una testa di cazzo mi fa molto piacere Nico non stare comba non stare comba dritta dritta non stare in una posa da Jojo che cosa stai facendo sembri un bodybuilder cos'è questa posa sotto merda no comunque dietro c'è è tutto non ho uno specchio per vedere perché non vorrei tipo girarmi e avere il culo dei fuori quindi ma mi pare che sia di fuori cioè mi pare che hai presente quando si inizia cosa c'è che è successo ah ok sto fiocco non ha senso più che altro eh raga sto fiocco è un po' una cagata non so tocca a me adesso cambiarmi quindi quale devo mettere vai a quello di quello rosso ok è un'ora di caldo sì ed è così è la prima che cambi allora mi insegno ad essere confident e che devo cioè allora facciamo le regoline in fila niente mano sui fianchi niente gobetta oh che cosa viene a sentire sarà tosta ma non mi perderò è un'ora di caldo